Buongiorno, anche se non è il modo migliore di iniziare una settimana questo lunedì, perché purtroppo la Juventus-Iris non ha portato a casa i tre punti. E sappiamo che c'è tutto un discorso psicologico che ci fa iniziare la settimana in una maniera differente, cerchiamo di scrollarcela di dosso in vista della prossima partita perché scenderemo in campo molto presto e sarà una partita tosta, importante. Cerchiamo di fare il punto con questo Roma-Juventus 1-0 gol di Gianluca Mancini da fuori area. D'accordo. Come sempre vi ricordo, piccolo spammino, autospammino di quello che è uscito in precedenza qui sul canale e quindi vi ricordo di guardarvi la live reaction, la mia faccia dice tutto. C'è Moise Ken in copertina e ne abbiamo già parlato nel post partita, altre due parole le facciamo anche oggi. Non proprio il migliore dei modi ad entrare in partita, direi proprio di no, ve lo lascio qui sopra nelle schede. 5 ad Allegri. L'ho sentito nel post partita e parlava di una Juve che nella prima parte di gara, quindi nel primo tempo, aveva lasciato un po' più libertà alla Roma, voleva far correre la Roma, non ci sono stati ritmi alti perché voleva far stancare la Roma. Ecco, io credo che questo sia l'errore da evitare fortemente da parte di questa Juventus perché è l'errore che ci continuiamo a portare dietro pensando di avere la stessa squadra sullo stesso livello di quelle del primo ciclo. Quelli del primo ciclo potevano permettersi di far sfogare l'avversario perché in un qualsiasi momento erano squadre forti tecnicamente e forti mentalmente, potevano decidere di azionare l'interruttore on-off e sembrava che non fosse successo niente. Ok, adesso giochiamo, ok adesso facciamo gol, ok adesso attacchiamo, ok adesso gestiamo la partita, ok adesso difendiamo, ok adesso il gol non lo prendiamo. La squadra della Lega nel primo ciclo facevano questo. La squadra l'anno scorso non lo faceva, questa secondo me è migliorata perché credo che la Juve di quest'anno addirittura all'interno delle difficoltà sia meglio della Juve dell'anno scorso, ma non ha quei livelli lì e quindi servirebbe quel qualcosa in più. Secondo me non si può permettere il mister di prepararle in questo modo con questa squadra e lo stiamo vedendo, è il campo che ci dice che questa squadra quel modo di giocare non lo può applicare. Quindi deve cercare di dare continuità dal primo all'ultimo minuto, deve giocarsi ogni chance a maggior ragione contro una squadra di Murigno, lo sai come sono le squadre di Murigno. Abbiamo analizzato la partita, l'avevamo già giocata, sapevamo che sarebbe andata così. Squadre basso ritmo, squadre che attaccano poco, squadre che tendono più a difendere, squadre che non prendono gol. Quindi come le vai a scardinare queste squadre? Aumentando il ritmo, aumentando il ritmo, perché sennò squadre che difendono basse, passivi, dietro la linea della palla, e se si difendono bene è un problema. Se non è la provinciale che deve venire a fare il punto e che quindi può avere una retroguardia ballerina, è un problema. La squadra di Allegra e la squadra di Murigno sono due squadre con un'impronta ben definita, hanno un'impronta perfetta, seguono perfettamente quello che chiede l'allenatore. L'allenatore chiede quello e le due squadre lo fanno alla perfezione. Però quando si trovano di fronte a queste due squadre, una delle due deve alzare il ritmo, o se no vince in una maniera un po' così. Io sono d'accordo con quello che dice Allegra nel post partita, che sia l'andata che ritorna con la Roma probabilmente meritavano di più. Però dobbiamo anche cercare di andarcele a migliorare noi, perché se il campo ti dice che comunque dal punto di vista delle occasioni meriti, ma poi non sei cinico e ne crei poche e hai bisogno di tre o quattro occasioni per far gol, non ne puoi creare due o tre in una partita. Ieri sera meritavamo la vittoria al 100%, nonostante questo, nonostante tutto, meritava la vittoria, sconfitta è meritata per quanto mi riguarda. Ma questo non conta, questo non conta, perché un altro errore concettuale che ci stiamo portando dietro è che quest'anno ci ha veramente limitato e tolto dei punti, perché se no questa squadra, a livello di rosa secondo me, in Italia come la Juve non ce n'è neancuna, oggi ce n'è neancuna. Quella che si avvicina di più probabilmente è l'Inter. Noi potevamo fare decisamente di più, decisamente di meglio e di questa cosa voglio parlare comunque all'interno di un altro video. Mi limito a dire che la Juve deve essere giro il motore, perché se non ha essere giro il motore questa Juve anche gli unici due obiettivi stagionali perché la Serie A, l'abbiamo già detto mille volte, e anche gli altri due obiettivi stagionali rischi di non portartigli a casa e siamo qui, cioè non è che manca tanto, è già marzo, è quasi metà marzo, quindi dai ragazzi, dai. Scesni, voto 6. Allora, ieri nel post partita vice o forse poteva farci qualcosina di più, io più riguardo il gol e più penso in realtà che lì l'intervento lo devi fare super per non prenderlo, cioè devi fare il miracolo perché quel pallone non deve partire, perché Rabiot non devi dargli la possibilità di tirare, perché da lì devi chiuderlo a maggior ragione è un giocatore che se lo chiudi in una certa maniera è innocuo perché Mancini un gol del genere non l'aveva mai fatto, anche lui nel post partita, poi l'ha detto io solitamente faccio gol di testa, non segnava da 500 giorni, quindi veramente ieri un insieme di cose si fa male, sembra dover chiedere il cambio dopo pochi minuti, poi no, ce la fa, mette insieme una prestazione dal punto di vista difensivo allucinante, tira fuori quel coniglio dal cilindro, si fa l'autopalo ma la palla non entra, quindi ieri sera Mancini poteva grattare dei gratte vinci e li avrebbe vinti tutti ieri sera quindi non credo che sia particolare colpa di Scensi, poteva pararla, certo che poteva pararla però serviva un intervento ancora più grande, non credo che sia una colpa poteva farlo, certo, ma secondo me la colpa nasce dal fatto che lì uno può andare al tiro l'ho riguardato più volte proprio per accertarmi di questa cosa perché anche ieri sera nel post partita vi dicevo, boh, forse Scensi su quel dagionale poteva arrivarci secondo me no, secondo me è abbastanza complicato arrivarci Voto 6 a Bremer, non una prestazione clamorosa nemmeno una prestazione brutta perché ragazzi ieri i tre dietro non hanno permesso niente poi giocavano con Dibba la prima punta, tra virgolette perché in realtà faceva forse più Pellegrini la prima punta ma non andava mai a marcare i tre centrali ha avuto una partita di impostazione libera non ci sono stati pericoli poi la Roma ha finito la partita facendo entrare Tami Abram e Belotti forse lì è diventato un po' più pericolosa per i centrali però niente di che Voto 6 ad Alexandro tra l'altro quando è uscito Alexandro secondo me si è vista una bella differenza giocatore che tra l'altro era partito anche bello pimpante abbiamo giocato particolarmente sulla sinistra ora vediamo quale sarà il problema di Alexandro come non ha fatto una brutta prestazione giocando anche solo il primo tempo Voto 6 meno a Danilo perché sulla stessa falsa riga la prestazione è la stessa per tutti e tre i centrali che hanno giocato nel primo tempo però Danilo all'ultimo secondo a quell'occasione lì che capita lì a lui in area non te la puoi mangiare così non puoi tirare una piattella in quel modo quantomeno mettere in difficoltà il portiere tirando forte più forte cercando di incrociare becca una deviazione fai deviare la palla fai qualcosa ma è stato siccome è un po' troppo molle poi era il novantasettesimo e quindi anche lui che non riposa mai neanche un minuto ha diritto a non essere freddo in area perché non è nemmeno il suo mestiere però diavolo quell'occasione lì ce l'ho ancora qua ce l'ho ancora qua perché lì ho proprio detto facciamo gol invece la palla non è entrata Voto 6 a quadrado un po' più pimpante del solito probabilmente sta crescendo di condizioni dopo il gol del derby però ragazzi quante volte siamo scesi dalla sinistra nel secondo tempo ne ho contate tre nel giro di nove minuti dei primi nove minuti 46-47-51 tipo una roba del genere con il rabbio costice di Maria tre occasioni nel giro di dieci minuti all'inizio del secondo tempo pochi istanti prima di prendere il gol di Mancini e andiamo sempre 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 da sinistra verso destra allora significa che il quinto di destra l'esterno di destra mi deve fare la diagonale in chiusura sul secondo palo non ci arriva Vlaovic benissimo allora ci arriva Quadrado ci arriva Fagioli che la palla di Rabiot era per Fagioli alta d'accordo ma anche lì se ci arriva Quadrado 9 in più dobbiamo sfruttarle meglio queste cose capisco che Quadrado non possa più avere quel fiato lì però è anche probabilmente Allegri dovrebbe lavorarci su queste cose qui ricordo no? la Juve di Conte con il 3-5-2 aveva questo marchio di fabbrica da una parte all'altra destra-sinistra Olic Steiner per Asamoah o Asamoah per il Steiner ma perché? perché si chiedeva al giocatore di andare a attaccare quel palo quindi bisognerebbe lavorarci meglio su questa roba qui perché sugli esterni siamo forti però ci limitiamo noi ci limitiamo noi tantissimo con queste cose voto 5 a Fagioli ieri non mi è piaciuto non una grandissima prestazione poi è stato sostituito per far spazio a Federico Chiesa passare altre dente si poteva forse togliere anche Locatelli eravamo lì come prestazione Locatelli non mi è piaciuto dal punto di vista della fase di possesso perché ha sbagliato tante cose poi ci sono stati quei due tiri che ha fatto entrambi da lontano uno per l'azione e uno perché semplicemente dopo 40 minuti non avevamo ancora mai tirato in porta mi è piaciuto tanto dal punto di vista del non possesso però siamo sempre lì benissimo da una parte e dall'altra è un po' insipido quindi serve dare quel giro di chiave in più perché perché arrivati a marzo non ci si può più accontentare di quello che abbiamo visto fino a febbraio la stagione inizia ad entrare nel clou se a marzo non dai quel giro di chiave rimani indietro non vinci e non porti a casa i risultati e allora non si può neanche pensare di poter rimanere alle Juve per tanto tempo non è per Locatelli è in generale è una cosa su tutta la squadra bisogna dare quel giro di chiave in più tutti dal primo all'ultimo e secondo me Locatelli lo può fare perché credo che abbia delle ottime caratteristiche secondo me Locatelli è un giocatore in prospettiva forte non è più giovanissimo è un giocatore che deve entrare nell'ordine delle idee che nel periodo di maturità massima per un calciatore sta per entrare all'interno di quella fascia d'età dove deve arrivare al suo top e dove avrà questi 4-5 anni in cui deve rimanere al suo top gli chiedo qualcosa in più perché secondo me lo può fare come lo può fare Serabio che è quel palo lì quel palo lì poi bravo a chiudere su Dybala quando Dybala fa quel tiro molto bravo Robbio in peso morto andare ad opporsi meno bravo come dicevamo prima quando parte il tiro quando parte il tiro di Mancini non siamo stati molto reattivi però Robbio fisicità la mette sempre tecniche a strappi li mette sempre e quel palo è quel palo che ancora credo vendetta su quel cross di Danilo peccato peccato davvero tra l'altro Robbio parole importanti nella post partita le commenteremo voto 6 e mezzo a Kostic secondo me è stato il migliore in campo un aratro un treno non lo so chiamatolo come volete ha fatto la spola su quella fascia in una maniera quasi vergognosa poi meritato riposo anche se la partita probabilmente aveva ancora bisogno di Kostic che si era un po' esaurito quindi il cambio secondo me è condivisibile però il migliore in campo ha messo tantissimi palloni ma veramente tantissimi peccato che ieri non l'abbiano seguito perché Kostic li mette sempre tanti palloni però a volte con un po' di imprecisione secondo me ieri sera invece aveva tarato i piedi li aveva calibrati bene ha messo degli ottimi palloni è mancato il supporto di squadra a questa cosa qui voto 5 e mezzo di Maria non mi è piaciuto si è leggermente sbloccato nel finale l'ha giocata praticamente tutta di Maria quindi anche questo è un traguardo però non c'era la magia ieri non era di magia era di Maria ce ne sono tre zia Maria quando gioca male di Maria quando fa una prestazione un po' così come ieri e di magia quando gioca bene sono tre versioni dello stesso calciatore a seconda della prestazione ieri sera era un normalissimo di Maria probabilmente anche lui inizia ad essere un po' stanco perché sta iniziando a giocare sempre più partite sempre più spezzoni di partita sempre per più minuti e c'è la sua età purtroppo tra l'altro anche qua Calvo parole importanti nel pre partita ci sono due video che voglio portarvi domani tra oggi e domani vediamo se se ce la faccio che sono lì che scottano do 5 a Vlaovic che in rifinitura secondo me sta migliorando sensibilmente anche ieri sera diversi palloni gestiti bene sulle altre quarti andando incontro giocare con i compagni con la squadra ad aprire quindi un Vlaovic in netto miglioramento da quel punto di vista però poi in aria tu devi essere un attaccante in aria devi essere un attaccante c'è un cross che arriva dalla sinistra nel primo tempo mi pare da parte di Alessandro o di Costi o comunque uno di quei tre lì non me la vado ad attaccare non ci mette il corpo per proteggerla la fa passare vuole andarci di fino allunga la gamba no lì ti pianti la difendi e ti metti in posizione per tirare perché devi sentire trovare la porta cercare la porta al limite dell'area quando c'è Fagioli in area non pensi a Fagioli pensi di essere attaccante della Juventus e sei anche in una buona posizione sul tuo piede per liberarti al tiro e tirare bisogna fare gol uno come Vlaovic deve fare gol maggior ragione uno come Vlaovic deve fare gol quindi un pochino di più perché sta migliorando in un fondamentale ma l'attaccante deve e dovrà sempre fare gol e Vlaovic adesso non ne sta facendo tanti e ne ha bisogno ne ha bisogno per ricaricarsi e ritrovare fiducia perché questo ragazzo con un potenziale inespresso ancora incredibile e qui molto va secondo me di colpa a livello di allenatore perché troppi pochi palloni giocabili per quelle che sono le caratteristiche di Vlaovic bisognerebbe darglieli in un altro modo lui ci sta mettendo il suo migliorando in alcune cose in altre ancora un pochino ballerino bisogna ancora lo dico ancora aumentare i giri dare il giro di chiave e migliorare le caratteristiche dei calciatori perché facciamo molta fatica molta fatica a collezionare una serie di vittorie di un certo tipo concrete di quelle che puoi toccare 5 e mezzo Bonucci che quando è entrato secondo me ha un pochino iniziato a far ballicchiare la difesa però ci stava pensavo decisamente peggio perché non giocava da una vita partita importante non la devi nemmeno giocare a titolare quindi con la testa sei anche un po' più rilassato invece devi entrare ho visto una squadra che ha iniziato a difendere in maniera più ballerina poi quando abbiamo preso il gol proprio ci siamo staccati abbiamo smesso di marcare non so se è per colpa di Bonucci la sua prestazione non mi è sembrata solidissima ma credo anche che sia ripeto comprensibile perché non giocava veramente da tanto tempo 5 e mezzo per Chiesa che non ha mai fatto praticamente la giocata fino ai minuti di recupero dove c'è quel tiro che finisce alle stelle e quell'altra giocata di Chiesa sulla sinistra dove salta tutti sguscia via sembrava un'anguilla la mette e poi nasce l'occasione di Danilo quelle sono le due giocate di Chiesa me le ha fatte due e me le ha fatte tardi Chiesa ne può fare dieci di quelle giocate lì anche soltanto subentrando a partita in corso quindi 5 e mezzo perché due giocate le ha fatte ma non è stato troppo poco Chiesa può fare di più decisamente di più soprattutto la subentrata voto 6 a Pogba che è entrato e c'è stato quasi niente se non quello stop con la possibilità di girarsi e ha voluto imbucare invece che tirare tiriamo in porta ragazzi tiriamo in porta anche quel passaggio di Rabiot per Fagioli prima bisogna tirare in porta dobbiamo accelerare dobbiamo andare più veloce perché se no le partite non le vinciamo non le vinciamo voto 6 a Paredes che è entrato insieme a Pogba niente di che ne sono dei due hanno fatto compitino e basta nella Juve virtuale i 13 minuti di Juve virtuale io vorrei qualcosa di più più i 7 di recupero quindi una ventina di minuti per i due calciatori dove si è giocato poco in realtà si è giocato abbastanza poco dall'ingresso di Pogba e Paredes ci sono stati un po' di però poi l'episodio che proprio non riesco a digerire è questo perché io credo che Mancini sia un grandissimo provocatore lo è l'abbiamo visto mille volte io ho visto una marea di partite della Roma in cui Mancini reagisce fa brutti falli addirittura la sera che hanno vinto la Conference League picchia a Fenaglian cioè proprio me Mancini dà l'impressione di essere un giocatore un po' così diciamo più che giocatore una persona un po' così un po' particolare un po' particolare per usare l'eufemismo e capisco che ci sia la provocazione ma tu sei entrato in campo da 40 secondi 40 secondi è quasi l'espulsione più veloce della storia della serie A hanno detto seconda soltanto A un'espulsione di migliaccio nell'Atalanta non mi ricordo quindi io capisco la provocazione io capisco anche Allegri ha detto magari è arrabbiato perché non ha giocato capisco pure questo però se è nella Juventus se è un calciatore professionista giocatore che è stato riscattato una quarantina di milioni dalla Juventus che ha reinvestito su di te con fiducia queste cose non le puoi fare queste cose non le puoi fare quindi sì Mancini ha sbagliato è un provocatore non è una persona simpatica è tutto quello che volete ma che non mi può reagire così e non mi può reagire così dopo essere entrato da 40 secondi queste sono cose proprio che secondo me non esistono non stanno né in cielo né in terra e questa è un po' l'analisi dei calciatori singoli della Juventus fatemi sapere se concordate con me oppure no fatemi sapere le vostre pagelle qui sotto e noi ci vediamo magari nel pomeriggio con un altro video e noi ci vediamo grazie a tutti